Sottoscritto nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo l'accordo tecnico per un percorso che consentirà l'uso pubblico del Molo San Vincenzo. Coordinato dall'assessore Edoardo Cosenza, il tavolo ha messo assieme Comune di Napoli, Soprintendenza, Marina Militare e Autorità Portuale. La Marina, come sapete, è dal 2013, sta facendo parecchi investimenti nella città di Napoli. Per noi è una base importante, è una città storica, è una città marinara e quindi la presenza della Marina riteniamo fondamentale, per cui riuscire a coniugare da una parte l'esigenza di mantenere l'operatività della base navale e dall'altra consentire alla popolazione di poter accedere al Molo San Vincenzo senza che l'operatività venisse messa in discussione o venisse messa in pericolo, per noi è stato un bellissimo risultato. Quindi ecco perché io penso che si tratti di una soluzione win-win, cioè vincente per entrambi. Sono molto contento che ci sia fatta in questo momento. Un esempio di buona amministrazione, cioè di un rapporto interistituzionale, le persone che si sono messe insieme hanno ottenuto un risultato, cioè quello di individuare le linee guida di un progetto che restituirà alla città la passeggiata lungo il Molo di San Vincenzo. Per ora è in una parte e speriamo che però possa essere, anzi sono certo che poi riusciremo a proseguire fino alla parte terminale del Molo anche con un progetto di riqualificazione complessiva del monumento borbonico ma anche di tutto quel contesto che da un punto di vista paesaggistico è straordinario e ce lo restituisce in forme compatibili con la tutela del patrimonio soprattutto paesaggistico di questa città. Oggi c'è una firma molto importante perché si è trovata la soluzione tecnica per l'accesso a Molo San Vincenzo che rappresenta uno degli obiettivi dell'amministrazione, poi per fare un piano di valorizzazione sia sulla diportistica che sull'intrattenimento molto avanzato e qualificato. tutti gli attori hanno firmato la parte tecnica dell'accordo, nei prossimi giorni formalizzeremo anche la parte amministrativa che è in fase di definizione e questo ci consentirà poi di partire col progetto esecutivo e i lavori per garantire l'accesso a Molo San Vincenzo.